Manti che batte, forte e teso con una mano Sedov! Nettamente con una mano Sedov! 60 amori dove mi era il 60 scuso. Allora, la palla ha toccato prima il colpo di Sedov e poi la mano. Ma la mano, secondo me, è nettamente volontaria. Adesso lo vedremo. Ci ho visto bene la palla, passa il colpo di Sedov. Gli scivola sulla destra e lui con il gesto estitivo, ma col braccio. Nettamente calciuto di cuore. Nettamente calciuto di cuore. Guardate, ma non c'è dubbio. Ma come si fa a non vederlo? Ma come si fa a non vederlo? La data non è possibile.